Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Oggi è l'ultimo venerdì di Ramadan e proprio per questo parliamo del venerdì. La giornata sicuramente più sacra, è una di quelle classiche all'interno del mondo islamico, la giornata che più di ogni altra caratterizza il mondo islamico, che come saprete meglio di me, diciamo che se i cristiani hanno la domenica, gli ebrei hanno il sabato, i muslim hanno il venerdì. E' inutile anche soltanto dire quanto sia importante il venerdì a Ramadan, che acquista veramente importanza fuori livello, una cosa esageratamente importante. Per questo e anche banalmente per il fatto che imparavo della settimana già nei giorni scorsi, oggi abbiamo il venerdì. Come al solito e come di consueto vi leggerò prima cosa dice e una volta letto questo vi darò un po' il commento mio e il parer mio anche. Allora iniziamo subito. Venerdì è il giorno di festa dell'islam ed è il signore dei giorni. Abu Huraira ha raccontato che l'inviato di Dio ha detto Il giorno migliore in cui sorge il sole è il venerdì. E' il giorno in cui fu creato Adamo, in cui venne sistemato in paradiso ed il venne fatto cadere sulla terra, in cui Allah lo perdonò, in cui sorgerà l'ora del giudizio. Non v'è un'ora del venerdì in cui un musulmano chieda a Dio del bene ed egli non glielo conceda. Una delle prime generazioni di musulmani ha detto Allah l'Altissimo ha bene in misura maggiore di ciò che è necessario agli uomini e solo dà quello che ha in più a chi lo chieda al calar della notte, del giovedì e il venerdì. Si tramanda sull'autorità di Ibn Mas'ud Colui che si taglia le unghie il venerdì, Dio gli toglie la malattia e lo rimette in salute. Al-Azmai ha raccontato Un venerdì feci visita ad Al-Rashid mentre si stava tagliando le unghie e diceva Tagliarsi le unghie il venerdì fa parte della tradizione. Mi è stato riportato che allontana la povertà. Gli domandai, principe dei credenti, dimmi forse la povertà? Rispose, c'è forse qualcuno più timoroso della povertà di me? Nelle tradizioni tramandate si racconta Gli angeli controllano l'uomo quando tarda il tempo della preghiera del venerdì. Allora si chiedono l'un l'altro Che fa al tale? Che cosa gli fa ritardare il tempo della preghiera? Poi dicono Dio nostro Se è stata la povertà a causargli il ritardo Allora rendilo ricco Se è stata una malattia Guariscilo Se è stato un lavoro Faglilo finire affinché ti sia devoto Se è stato uno svago Piega il suo cuore Affinché ti obbedisca Come avrete visto Se le altre volte Al-Qazwini era abbastanza Attento a non dire troppo Questa volta Effettivamente dice tantissimo Ma D'altronde il venerdì Lo saprete meglio di me È il giorno sacro È proprio È come fosse la domenica È come fosse il sabato per gli ebrei E proprio in questa giornata Si fanno tutte le cose Che abbiamo detto prima Quindi si va in moschea Tra l'altro la moschea Per chi non lo sapesse Non è come È la chiesa Diciamo La chiesa Ogni volta Che diciamo C'è una cerimonia Fa la cerimonia Diciamo classica Nell'islam Questo non è Così Nel senso che Il sermone Si tiene solo Ed esclusivamente A Jumwa Che sarebbe La preghiera del mezzogiorno All'incirca Però di venerdì Ed è una preghiera Valmente diversa Perché non sono È un po' complicato Entrima nel tecnicismo Però diciamo che È lunga la metà Ma al suo interno Anche il sermone Dell'imam Che quindi Diciamo Prende un po' di tempo Diciamo che Il nome Ovvero Jumwa È sicuramente Il più azzeccato Jumwa L'ho scoperto Facendo in realtà Proprio questa ricerca Vuol dire La riunione All'incirca Ed effettivamente È l'unico giorno All'interno della settimana Nella quale È proprio prevista Una riunione Fra muslim Perché ci si è radunati Insieme Appunto Per celebrare Ci sono diverse Diverse storie Legate al perché Proprio il venerdì E non Un altro giorno Molto varie Fra di loro Una di queste Diciamo Che è più facile Spiegarvi Perché in realtà Vi ho già detto In parte Alcune cose Sarebbe legata Al fatto che Proprio il venerdì Ci sarà il giorno Dell'apocalisse E coloro che sono In moschea Verranno in qualche maniera Attelati Salvati Eccetera Proprio per questo Bisogna riunirsi In realtà Le spiegazioni Sono molto varie E non voglio Adentrarmici troppo Perché sennò È veramente complicato Fatto sta Proprio perché Si deve andare in moschea Sono tutte previste Una serie di norme Un po' particolari Che poi Non sono Fiscalice Non è che non ti fanno Entrare Se non le rispetti Però Sono considerate Effettivamente Di buon gusto Una di queste Banalmente È vestirsi Il meglio possibile Quindi Con dei bei vestiti Che magari Abbiano anche Dei colori Legati all'islam Eccetera Non mangiare cipolle Sembra una cosa assurda Ma Ho letto proprio Da qualche parte Mi sembra addirittura Che nel corano C'è scritto Che non bisogna Manggiare cipolle Il venerdì Una roba Un po' particolare Ma che Si lega Ancora di più A tutto Questo messaggio E poi Tutta una serie Di altre cose Un po' più piccole Come banalmente Tagliarsi le unghie Che sempre fa parte Diciamo Del bell'aspetto Non bisognerebbe Dire Caltiveri Eccetera Di venerdì Almeno fino a quando Non si fa la preghiera Eccetera Ma anche dopo Naturalmente È il giorno Nel quale bisognerebbe Leggere il corano Almeno Sura Che è ritenuta La sura Di venerdì Nel senso che Tradizionalmente Si dovrebbe leggere Sempre il venerdì Io Per essere chiari Un tempo Lo facevo Adesso Se mi capita Di leggere il corano Onestamente L'unica sura Che provo ad evitare È la sura Perché L'ho letta Tante volte Che Praticamente Un po' troppo Però Questi sono dettagli miei Fatto sta Che è considerato Proprio Il giorno Più sacro In assoluto È il giorno Sicuramente Più rappresentativo Di tutto l'islam Del mondo arabo Che è legato Naturalmente All'islam E In generale È l'unica giornata Che Non ha Più Nomi Diciamo così Si dice Jumu'ah Per il mondo arabo E per il mondo persiano Si dice Uguale Per il mondo turco Si dice uguale Anche se è scritto Kuma Perché La C In turco Si pronuncia G E addirittura In Malesia È identico Quindi Non mi soffermerei Nemmeno troppo Su il nome Faremo invece Una piccola parentesi Legata Sia al digiuno Che Nel venerdì È fortemente Sconsigliato È come si dice Makru E In realtà Questa Faccio un'altra Piccola parentesi Nella parentesi Non è che È sconsigliato In assoluto Cioè non è che Tu non puoi Digiunare Infatti ho detto Makru Che vuol dire Sconsigliato Diciamo Fortemente sconsigliato Diciamo che Tu lo puoi fare Però dovresti Digiunare O anche il giovedì O anche il sabato Oppure farlo In un periodo Tipo I giorni di Arafah Dove Appunto È fortemente Consigliato Digiunare In quei giorni di Questo perché Il venerdì Ha Una connotazione Di festa E quindi Il digiuno È comunque ritenuto Una cosa faticosa Onestamente E di conseguenza Non viene Prescritto Per questo giorno Si può fare Se ci sono Di altri giorni Attaccati Ma farli Solo il venerdì Non è considerata Una cosa Positiva Bella Altre cose Che vanno dette Riguardo all'islam Diciamo Non me ne vengono In mente Onestamente Poi Come al solito Se avete delle domande Fate pure Mentre per quanto riguarda Gli altri mondi C'è da dire Che Molto semplicemente Fare una piccola parentesi Sui nomi Che ormai mi piace Lo sto facendo sempre E continuo a fare Praticamente Nel mondo latino Noi diciamo Venerdì E infatti È il giorno di venere Per essere chiari Mentre Nel mondo germanico È friday Che sarebbe il giorno Di freia Io Ho finito Mi fermo qui Vi saluto E ci vediamo domani Domani Ricordo a tutti Che ci sarà L'ultimo giorno Della settimana Da fare Ovvero il sabato Il giorno sacro Per gli ebrei Già vi anticipo E di fatto Sarà anche L'ultimo giorno Di ramavan Come ho già detto Anche nello scorso episodio Io Tendenzialmente Per settimana prossima I primi tre giorni Probabile che non esca Nulla di nulla E poi dovrebbero uscire I due video O i tre video Che non ho fatto E che ci tengo Francamente a fare E quindi Ci saranno di sicuro Da Una volta che finirà Questa settimana Capiamo un attimo Da farsi Vediamo un attimo Volevo Intanto pensare A recuperare Quello che non avevo fatto E poi Pensare Al resto Io vi saluto E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima